L'importanza di questi festival, di questi incontri, di questi panorami della cultura? Sono importantissimi perché in un mondo che sta diventando sempre più virtuale, social network, zoom, skype, io credo che invece moltissimo, cioè che è sempre più importante avere degli incontri dove ci si confronta, dove si cresce, dove si comprende, dove si discute, ma dove c'è una fisicità perché noi esseri umani siamo questo e quindi meno social e più presenza fisica e questi festival e queste feste sono fondamentali perché noi siamo questo.